Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione FIPILI. In A1 per lavori di pavimentazione lunedì notte, in orario 22.06, sarà chiuso lo svincolo di Firenze Scandici in uscita per chi proviene da Roma. Sulla strada provinciale 11 Pisana per Fucecchio, senso unico alternato per restringimento della carreggiata tra i chilometri 4.500 e 8.500 nel comune di Cerreto Guidi, fino al 6 aprile in orario 8.19. A Firenze via del Padule resterà chiusa fino al 10 aprile tra via della Villa Cedri e via di Villa Magna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!